passiamo la parola al professore Ricolfi che è il nostro primo relatore della giornata e quindi facciamo un cambio della guardia io intanto appunto presento il professor Ricolfi volevo anche dire due parole anche due battute su questa rincorsa al decreto nel senso che è stato approvato e firmato il Presidente della Repubblica approvato in Consiglio dei Ministri il 4 di novembre e firmato il Presidente della Repubblica pochi giorni dopo ma anche la firma del guarda segili del Ministro della Giustizia che poi permette l'inserimento in gazzetta ufficiale la cosa bizzarra è che solitamente circolano bozze nel senso che circolano bozze anche quando non devono circolare quando invece servirebbero molto perché aiuterebbero gli esperti del settore aiuterebbero gli operatori, i professionisti o chi organizza convegni come noi a poter lavorare su qualcosa che è già definitivo in questo caso invece lo hanno fatto circolare penso che si debba sedere là davanti al computer professore sì, esatto, così teniamo la distanza e è un'occasione unica questa direttiva perché se ci fate caso l'ultima direttiva che si occupava di diritto d'autore al mondo digitale risale a vent'anni fa esatti quindi la direttiva del 2001 e tutti si aspettavano tanto da questa direttiva perché era un'occasione unica per avere un diritto d'autore in ottica diciamo europea quindi che comprende tutti i paesi dell'Unione Europea molto più adatta e molto più moderna rispetto al contesto che viviamo oggi cioè dal 2001 se si pensate insomma i giovani, gli studenti nel 2001 probabilmente erano in fasce o erano appena nati quindi non se la ricordo io me lo ricordo bene il 2001 anche gli altri relatori se la ricordano sicuramente bene era un mondo molto diverso e quindi quello che ha detto la professoressa Formiga sul fatto che ci si sta scollegando molto dal concetto di copia quindi copyright un istituto giuridico nato in un periodo in cui invece la copia era centrale oggi è di per sé un po' debole come concetto e allora bisogna trovare nuove soluzioni noi abbiamo intitolato abbiamo sottotitolato nuove sfide scenari ancora aperti nuove sfide da affrontare e adesso le sfide le cercheremo di raccogliere già in questi sei interventi di oggi pomeriggio e vedere se riusciamo a dare una forma più concreta a quello che ci aspetta perché oggettivamente io quando ecco la bozza che ho letto quella di quella approvata temporaneamente dal consiglio di ministra e poi ritirata e poi ripresa quando l'ho letta ad agosto insomma forse era anche la stanchezza dell'estate mi ha lasciato su alcuni punti un po' perplesso più che altro sulla loro concreta fattibilità cioè alcune cose mi sembravano comprensibili dal punto di vista teorico però poi mi chiedevo ma come si fa a farlo davvero per rispondere a questa domanda ovviamente dovremmo vedere la nuova bozza quindi vabbè siamo un po' in questa situazione di limbo è già pronto professore? sì? ok quindi presento professore Ricolfi professore di diritto della proprietà intellettuale al dipartimento di giurisprudenza dell'università di Torino e condirettore del centro NEXT del Politecnico di Torino che per anni è stato anche il chapter italiano di Creative Commons con cui ho avuto modo di collaborare io dal professore ho anche se non è stato il mio professore però ho imparato tanto indirettamente grazie ai suoi iscritti ai suoi convegni alle sue lezioni dal 2019 è anche presidente del comitato consultivo per il diritto d'autore che è un organo previsto dalla legge che appunto ha una ha una funzione consultiva nei confronti del legislatore quando si tratta di materia di norme in materia di diritto d'autore e quindi il professore Ricolfi ci parla da un punto di vista assolutamente privilegiato perché ha seguito questi tutte queste queste fa così con la mano perché probabilmente ha qualcosa da dire su questo tema ha qualche sassolino della scarpa che si vuole togliere della scarpa però nel senso è un osservatore privilegiato che poi venga più o meno ascoltato coinvolto in debita proporzione questo lo vedremo comunque il titolo del suo intervento è la direttiva europea e la sua attuazione tra interessi protetti e regolazione delle piattaforme digitali a lei la parola professore Ricolfi grazie Simone do del confidenziale tu a Simone perché in effetti è molto giovane ma io lo conosco da quando era ancora più giovane e quindi da molti anni io tengo la mascherina perché faccio facendo le mie lezioni in presenza con i miei studenti non mi sono mai trovato male con la mascherina se a un certo punto mi sento soffocare quello che è successo è che oggi ho cambiato mascherina ho preso una con due alette qua sopra il naso che mi mette un po' in imbaracco quindi se me la toglierò sapete perché grazie innanzitutto all'Università di Verona grazie alla vostra dipartimento grazie alla professoressa Formiga con la quale abbiamo avuto subito come dire una intesa facile e positiva io devo dire essendo stato ed essendo ancora presidente del comitato consultivo permanente del diritto d'autore che è preciso l'organo di consulenza non del legislatore ma del governo quindi del MIBAC del ministero l'onorevole Franceschini per intenderci ho saputo tante cose dell'iter che ci è toccato e dirò qualche cosa ma tutti i passaggi successivi li conoscete meglio a voi di quanto non li conosca io perché ho cercato di capire diversi passaggi ma non ci sono tanto riuscito quindi oggi ho imparato anche delle cose sotto questo profilo e mi domando se la mancata firma del ministero della giustizia avendogli interloquito con il ministero della giustizia voglia dire che è altro da fare o voglia dire che ha delle perplessità ancora non lo so lo vedremo sarà poi lo sviluppo successivo a chiarirci questo bene detto questo grazie io non ho parlato mai di diritto d'autore se non una volta per il nostro caro amico Ubertazzi e sono contento di averlo fatto perché poi è mancato qualche mese fa e quindi quando mi ha chiesto di parlare del diritto connesso dei giornali io ho detto ma Gigo io non lo farei perché ho un incarico ufficiale come faccio a parlare e lui è rimasto così dispiaciuto e deluso che poi ho detto vabbè tanto parlo in sede scientifica accademica quindi va benissimo poi sono sempre stato zitto fino a quando la professoressa Formiga non si è fatta avanti ma lei aveva nome non soltanto di editoria ma di biblioteche e per me le biblioteche sono tra tutti i player che sono in campo quelli che hanno sempre fatto bene sono sempre state della parte del giusto per cui quando ci sono di mezzo le biblioteche io sono particolarmente favorevole ecco e quindi ho deciso di superare la residua riluttanza ma anche perché poi dirò delle cose molto basiche essenziali perché ho 25 minuti credo di averne già utilizzati tre o quattro quindi non posso dire più che tanto i temi di cui mi occupo sono sostanzialmente tre due piccolini il terzo più grosso e poi ci sarà una quasi una conclusione quello più piccolino è quello sul quadro normativo di riferimento che è già stato un po' illustrato negli interventi che precedono quello che vorrei aggiungere sta anche dentro al titolo e la grammatica degli interessi che stanno dietro al diritto d'autore che sono degli interessi più complessi che in altri settori della proprietà intellettuale io credo che quando abbiamo questa sensazione di frustrazione di difficoltà a seguire il contorsionismo del legislatore dobbiamo considerare questa pluralità di interessi che mi sono proposto di cercare di illustrarvi poi il terzo punto è quello di fare una prova sul campo e vedere come questi interessi confliggenti troppo distante come questi interessi confliggenti sono ancora la prima slide purtroppo le slide non devo avere scaricato il software per cui sono un po' piccoline spero che voi vediate vedete meglio voi vedete meglio probabilmente voi di quanto non veda io però ce l'ho anche qua stampata e quindi dovrei riuscire a vedere che cosa devo dirvi il terzo punto è una specie di prova sul campo vedere in alcuni settori di fare delle verifiche e cercare di comprendere se la composizione tra gli interessi confliggenti è riuscita o non è riuscita per poi concludere punto primo l'iter il quadro normativo se ne è già parlato ma io voglio ricordare che in realtà abbiamo avuto tanti sogni sull'ingresso del digitale nel campo del copyright e l'ingresso del copyright nel campo del digitale questi sogni li abbiamo avuti noi studiosi io mi risparmio quelle mie perché erano più illusioni che sogni ma anche nell'e-cruz anche la Vivian Reding ci hanno presentato in discorsi rimasti celebri un matrimonio tra il copyright e il digitale che era tutto bellezza tutta armonia tutto vantaggio per tutti quanti ovviamente poi scendendo dai sogni alla realtà ci siamo trovati ad affrontare il tema del value gap che vuole dire sostanzialmente che le opere dell'ingegno create dagli editori di giornali dalla musica e in generale dai right holder che hanno diritti sul contenuto vengono utilizzati online senza essere compensati quindi si è passati dai sogni alla realtà e ci sono state anni di negoziati e di discussioni che hanno portato poi a due direttive noi non parliamo mai della direttiva 789 del 19 la cosetta SATCAB che riguarda le trasmissioni di opere per satellite non ve ne parlerò neanche io però è importante ricordare che sono due le direttive una grossa e l'altra piccola ma quella piccola non è trascurabile prima c'erano state dieci direttive di cui in realtà Simone ha ragione già la direttiva InfoSoc del 2001 si occupava del digitale ma in generale il legislatore europeo che è intervenuto con tantissime direttive si è occupato poco del digitale io qui ho citato la direttiva sulle opere orfane che è stato un po' un precedente decollegata alla disciplina delle opere fuori commercio ed è un segno di una maggiore attenzione del legislatore europeo quando abbiamo avuto questa direttiva che è dell'aprile del 2019 è iniziato il processo di attuazione in Italia già ha detto la professoressa Formiga che è la legge comunitaria che ha dato i principi e i criteri e la legge 53 del 22 aprile del 2021 l'articolo 9 in particolare e poi sono iniziati i lavori del comitato consultivo permanente per il diritto d'autore la cui prima riunione è venuta subito dopo 5 maggio 2021 parlavate di Sassolini nella scarpa da togliersi in realtà non è un Sassolino però io nel settembre del 2019 ho incominciato a dire al ministro guardi che poi il 22 di giugno del 2021 sembra lontano ma è dietro all'angolo e non ho avuto risposta alcuna quindi ci siamo mossi il 5 maggio 2021 e abbiamo fatto un lavoro che è terminato con la trasmissione del testo del comitato consultivo permanente il 9 giugno abbiamo fatto credo sette riunioni inclusa una sul SACAB e essendo così ristretti tempi come dire la mediazione diventa più difficile perché voi capite che nel campo del diritto d'autore abbiamo musica editori di giornali editori di pubblicazioni enti di gestione collettiva utilizzatori consumatori chi più ne ha più ne ha tutte le istituzioni c'è stato Agicom c'è stato una grossa cacofonia se così posso dire che è normale che è fisiologica ma che nel mio disegno avrebbe dovuto essere stemperata nell'arco di un anno di un anno e mezzo e che poi nei fatti è stata in qualche modo gestita per usare una bruttissima parola nel giro di un mese e quattro giorni per cui il risultato che forse anche voi avete visto che è la bozza del comitato consultivo permanente si può dire forse che è migliore del risultato finale o forse no ma certamente poteva essere migliore e devo anche io prendermi le responsabilità poi una ve la evidenzierò l'iter successivo ne sapete più voi di me quello che è stato detto è tutto corretto e corrisponde alla mia conoscenza attendiamo soltanto la pubblicazione in gazzetta ufficiale non credo che ci siano sorprese in termini generali è cambiato il 10% circa della legge sul diritto d'autore quindi non poco e in punti strategici la cosa tipica da sottolineare è che essendo una normativa italiana c'è moltissimo ruolo svolto dall'agicom che deve fare tutta una serie di regolamenti nei 60 giorni dalla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale mi viene da pensare che sia agicom che dice aspettate a pubblicare sulla gazzetta ufficiale perché noi non siamo pronti no mi viene in mente mentre vi sto parlando non è che sia un'ipotesi attendibile ma può anche darsi agicom devo dire è sempre stata molto puntuale nei suoi interventi io l'ho criticata nel passato per essere fin troppo vogliosa ad intervenire nel campo del diritto d'autore vedremo se anche questa volta i molteplici compiti che le sono affidati che sono compiti di innanzitutto fare dei regolamenti verranno assolti con lo stesso entusiasmo la stessa tempestività che ha dimostrato in passato poi in Italia ci sono gli enti di gestione collettiva e quindi sostanzialmente siae per i i right holders ma poi gli altri enti di gestione collettiva indipendenti in realtà sono i colletti EGI enti di gestione indipendente e quelli degli artisti interpreti esecutori è una legge che tiene molto conto di queste entità e forse tutto sommato ha ragione io forse per motivi storici ho avuto modo di apprezzare in molti casi l'intervento e l'operatività della SIAE che viceversa non gode tantissima popolarità presso i giovani anche se poi certe volte ad esempio come esponente di Creative Commons ho cercato di convincervi a fare delle cose che non hanno fatto ma comunque il futuro il futuro è importante perché non siamo arrivati a una sistemazione abbiamo da considerare qui effettivamente devo andare avanti con le slide scusatemi mi sono perso ecco qua siamo al futuro DSA Digital Services Act deliberato come testo di proposta della Commissione nel dicembre dell'anno scorso dovrebbe essere Digital Services Act un intervento complessivo sulle piattaforme piramidale ma con una disciplina particolarmente importante sulle grandi piattaforme digitali per intenderci Google e YouTube che vedremo se viene approvato o non viene approvato entro quali termini ma se venisse approvato cambierebbe molte cose della disciplina che stiamo esaminando io su questo dirò qualcosa più avanti Digital Markets Act che mira a creare più competitività ci sono i profili antitrust Digital Governance Act che regola gli intermediari nel campo del digitale e anche Public Sector Information è una botta di regolazione dell'intelligenza artificiale ci sono anche l'ho scritto in piccolino proprio perché me ne vergogno un regolamento sul terrorismo e un regolamento sul chat control che mira a controllare la pedopornografia che sono estremamente invasive della libertà di tutti quanti ma sono già regolamenti e se uno vuole avere il quadro completo non deve dimenticarli finiamo di parlare del futuro e quindi ci avviamo al secondo segmento che è quello dell'analisi degli interessi dicendo che comunque c'è una controversia perché tra tutti i polacchi che sono i meno pro diritti fondamentali hanno impugnato la direttiva dicendo che era in violazione delle norme della carta dei diritti fondamentali abbiamo già avuto l'opinione dell'avvocato generale attendiamo la sentenza e quindi la direttiva che noi abbiamo attuato è una direttiva che potrebbe essere confermata o non essere confermata mi sembra che è probabile che venga confermata ma quello che è interessante è che l'avvocato generale ha incominciato a dire sì può andare bene purché la sentenda in questo modo e quindi bisogna anche vedere che le nostre soluzioni siano conformi a quello che dice l'avvocato generale secondo punto quali sono gli interessi sottesi al diritto d'autore gli interessi sottesi al diritto d'autore sono interessi più grazie sono interessi più complessi che in altri settori perché se noi facciamo uno schema degli interessi sottesi alla disciplina e al diritto dell'autore vediamo che ci sono tre categorie di soggetti che sono presi in considerazione e tutelati e sono i creatori quindi gli scrittori gli artisti quelli che creano nuova proprietà intellettuale l'industria che è un passaggio fondamentale perché salvo pochissime eccezioni i creatori non raggiungono il loro pubblico direttamente non lo raggiungevano prima del digitale e infine gli utilizzatori dove noi abbiamo avuto approcci molto diversi perché un grande studioso come Giorgio Oppo ha detto che il primato la primazia nella gerarchia di valori sta agli autori il lavoro è costituzionalmente protetto il lavoro artistico in particolare è un po' la concezione della rivoluzione francese che diceva che la proprietà intellettuale è la più sacra di tutte le proprietà poi ci sono coloro come Ascarelli che dicevano sì ma noi proteggiamo gli autori mica per fare un piacere a loro perché portano agli utilizzatori delle cose importanti per la cultura per il dibattito politico quindi number one sarebbero gli utilizzatori e gli americani come Jerry Reichman che venendo sempre in Italia ci convince ogni tanto della bontà di questa impostazione l'industria è fondamentale perché quello che dice Reichman ha ragione è che se tu sei un creatore puoi perdere del tempo e del danaro ma poco per un'opera che poi non ha successo ma chi porta veramente l'opera al pubblico è l'industria e deve avere una capacità straordinaria perché sennò tutto l'investimento va perduto quindi essendo questi i tre interessi confleggenti due osservazioni uno che storicamente è quello che viene per primo è quello dell'industria la buona regina Anna intervenuta in Inghilterra nel 1709 non per incitamento dei creatori e degli autori ma dell'industria e l'altra cosa da dire è che se noi guardiamo campi come il diritto dei brevetti e il diritto dei marchi che è il mio diritto perché io sono studioso dei marchi è molto più semplice perché ci sono sempre soltanto due interessi qua incominciamo ad averne tre e vedremo che la cosa si complica anche con ancora più con il digitale ecco parliamo del razionale della tutela ma perché mai il sistema giuridico dovrebbe tutelare la proprietà intellettuale e il diritto d'autore ma per quello che ci è sempre stato spiegato che si chiama di public goods si tratta di public goods di beni pubblici nei quali si ha un fallimento del mercato perché se io ho una nuova idea creativa un nuovo libro ma anche una nuova soluzione tecnologica questa può essere imitata da chiunque questo azzera l'incentivo a creare perché le idee sono non rivali nel senso che possono essere liberamente imitate di per sé possono essere consumate da più di una persona se io mangio una mela Simone non può mangiare la stessa mela ma se io leggo un testo Simone può leggere lo stesso testo e sono non rivali anche nella produzione lo vedremo in particolare nel digitale allora il diritto interviene dicendo ma noi diamo una esclusiva in modo da incentivare in modo da incentivare gli autori e loro avventi causa a creare quello che altrimenti non sarebbe protetto e questo è nell'interesse di tutti quanti questa è la parte semplice però poi diventa complicata quando le cose si svolgono qui c'è una tabella che ha forse un errore si dice anche così ma adesso lo correggiamo subito troviamo al primo punto i creatori come prima ma i creatori non sono soltanto i creatori che hanno già creato ma anche la libertà dei creatori downstream quelli futuri che se si dà troppo tutela al passato non hanno libertà e sempre a vantaggio dei creatori abbiamo gli enti di gestione collettiva abbiamo già una complicazione poi l'industria la industria si si sdoppia e forse si triplica anche perché accanto ai tradizionali editori e gli aventi causa degli autori saltano fuori le piattaforme che sono anche industria ma hanno degli interessi che sono interessi a prendere e moltiplicare senza pagare quindi un'industria sì ma un'industria con finalità molto diverse e confliggenti gli utilizzatori continuano ad esserci chi è sbagliato perché avrei dovuto mettere tre di fronte agli utilizzatori i quali però nell'epoca attuale diventano anche dei creatori infatti si parla di user generated content di contenuti generati dagli utilizzatori e abbiamo anche la comparsa del ruolo importante a cui accennavo prima delle biblioteche e diventa chiaro quello che era implicito in passato c'è un interesse collettivo sosteso al diritto d'autore che forse per me è più importante di tutti io racconto sempre ai miei studenti la favoletta di Samuel Johnson che prima del diritto d'autore era uno stipendiato dell'Earl of Chesterfield e quindi diceva le cose che il suo padrone signore voleva che lui dicesse poi la regina Anna dal copyright Samuel Johnson passa un numero enorme di anni a scrivere il miglior dizionario della lingua inglese che sia mai stato scritto ancora oggi e preso come base diventa più ricco dell'Earl of Chesterfield e a quel punto incomincia a dire veramente quello che pensa la libertà di espressione è consentita dall'indipendenza economica ottenuta dagli autori il dibattito e l'opinione pubblica Habermas ci parlerà poi dell'opinione pubblica da tedesco ma l'opinione pubblica grande del settecento è quella del mondo anglosassone noi continentali siamo molto indietro rispetto a loro e il diritto d'autore dà un contributo fondamentale a questo finisco di parlare di questo secondo tema parlando della discontinuità del digitale ho già dato un quadro prima semplice poi complicato e quello che dico è che la complicazione grazie professoressa io mi perdo un po' nella foga del parlare quindi mi dimentico di si riesce a seguire senza problema ok il digitale che cosa cambia che consente la creazione di copie perfette perché la copia digitale è identica si parlava di una crisi ontologica della copia anche perché non si sa che cosa è l'originale che cosa è la copia sono tutte uguali sono infinite sono senza costo di produzione ma soprattutto senza costo di distribuzione pensate ai libri e ai dischi quando erano in vinile l'impresa aveva dei costi enormi non nella stampa del libro soltanto e del disco in vinile ma nella distribuzione che doveva raggiungere capillarmente tutti i punti di vendita per poi ritirarli con delle complicazioni contrattuali di contratto estimatorio e così via tutto questo è superato dal digitale però questo sembra essere meraviglioso questa è la ragione per la quale c'eravamo in tanti eccitati però in realtà le copie digitali comportano delle esternalità delle esternalità perché nel momento in cui è così facile fare delle copie e farle circolare senza costi questo vuole dire che gli autori e le imprese a cui gli autori si appoggiano rischiano di perdere qualunque incentivo per la cannibalizzazione di copie non autorizzate che circolano in rete d'altro canto ci sono anche esternalità se noi vediamo le cose dal punto di vista degli utilizzatori e degli interessi collettivi perché io sono stato il chairman del copyright subgroup dell'iniziativa delle biblioteche digitali a livello europeo che è stata un'esperienza devo dire di grandissimo estremamente positiva sotto tutti i profili anche nei rapporti con diciamo i committenti politici più di quanto non abbia potuto dire e vedere qua in Italia una volta che si sono digitalizzate delle copie una volta che le biblioteche hanno fatto delle copie digitali di ciò che c'è nelle ore accolte è un'esternalità negativa che queste copie non siano accessibili a tutti ed è anche un'esternalità negativa che la biblioteca nazionale tedesca faccia una copia e che altrettanto debbano fare le altre biblioteche degli altri 27 stati membri un costo ingente non giustificato per cui ci troviamo di fronte a una mediazione sempre più difficile perché facendo in un modo si sacrificano ingiustamente gli interessi dei titolari e dei loro avventi causa e nell'altro si sacrificano gli interessi degli intermediari delle biblioteche e della collettività le piattaforme digitali in tutto questo entrano e scompigliano vedremo come come sono stati affrontati questi conflitti di interesse in direttiva questo è il terzo e ultimo tema che potete immaginare che sarà piuttosto breve in alcuni passaggi poi quando arriviamo all'articolo 17 diventa di nuovo un pochino complicato ma poi almeno siamo alla fine e dicevo questa direttiva come affronta questi nodi io non tratto perché ne parleranno gli altri di alcuni di alcuni temi di alcuni temi importanti text and data mining lasciatemi dire dare un voto come è stato affrontato e risolto questo problema secondo me text and data mining siamo 5 meno meno come soluzione qualcuno poi ne parlerà ma avete già la mia valutazione didattica online siamo a 7 licenze collettive estese non l'abbiamo attuato quindi direi non applicabile e la soluzione degli scandinavi noi abbiamo detto vade retro satana il diritto degli editori di giornali va bene per alcuni aspetti poi c'è stato quello che l'antitrust ha segnalato e cioè che non noi ma poi nell'iter successivo hanno voluto metterci delle cose che ha inventato Mardoch in Australia hanno attuato i francesi e che è in palese eccesso di delega quindi io direi diritto dagli editori di giornali sei meno per la parte conforme alla direttiva e non qualificabile per quello che riguarda quello che c'è eccesso di delega non qualificabile il diritto di panorama io come creative common ho sempre cercato di dire guardate che se esistono delle opere che sono in dominio pubblico i monumenti di Firenze piuttosto che di Lerona queste devono poter essere riprodotte liberamente nel momento in cui il diritto d'autore dice che sono liberi sono liberi però c'è la legislazione sui beni culturali io ho cercato di dire sì ma abbiamo l'articolo 32 della legge urbana che consente di fare tutte le modifiche che sono coerenti con l'attuazione della direttiva mi hanno detto giustamente che l'articolo 32 non giovava hanno ragione loro quindi io mi sono ritirato in buon ordine sapevo che dovevo tentare l'onore salvo però il fatto di non aver attuato la libertà di panorama né a livello europeo né a livello nazionale ci mette veramente con un voto molto molto basso adesso passiamo alle verifiche che faccio che sono quattro e in realtà le prime tre soprattutto le prime due sono abbastanza semplici la disciplina sui creatori intesi come autori ma anche come artisti interpreti esecutori ma qui siamo a un otto e mezzo perché siamo a un otto e mezzo perché finalmente abbiamo un legislatore europeo che interviene per dire alcune cose basilari in tema di giusta remunerazione in tema di trasparenza e viva Dio che le abbiamo volete un'analisi più precisa c'è un bellissimo articolo di Michele Bertani che trovate in bibliografia io non dico di più perché il tempo è quello che è però qui veramente il legislatore europeo ha fatto bene si può sempre far meglio ma certe volte il meglio nemico del bene il legislatore italiano non ha peggiorato la situazione questo è già molto opere fuori di commercio opere fuori di commercio c'è una parte positiva e poi una parte negativa di cui mi prendo anch'io la responsabilità opere fuori di commercio opere che da dieci anni non sono pubblicate se appartengono alle collezioni permanenti delle biblioteche degli archivi dei musei possono essere riprodotte distribuite e comunicate al pubblico chi non vuole che questo venga ha un diritto di opt out secondo me è estremamente positivo con tutta la spesa che si è fatta sulla digitalizzazione che ricordavo prima è veramente un minimo mettere a disposizione con dei meccanismi che presuppongono dell'intervento di un ente di gestione collettiva oltre che l'istituzione pubblica e con un opt out degli autori disciplina estremamente equilibrata direi voto alto devo dire noi abbiamo fatto una scivolata nel compreso perché in realtà per quello che riguarda le opere fuori commercio c'erano due strade se non funzionava la licenza dell'ente di gestione collettiva doveva esserci un'eccezione e limitazione nel testo italiano questo è scomparso perché ma diciamo che anche se volete io stesso me lo sono fatto scappare poi l'amico Maurizio Borghi mi dice ma Marco dove l'avete messo quello io ho fatto così ma era tardi ho cercato di recuperarlo in tutti i modi che non posso dirvi però non ci sono riuscito però mi sono schiaffeggiato tante volte per averlo perso per strada teniamo presente che normalmente c'è tempo poi per un biennio per ritornare in sede di decreti correttivi e a quel punto speriamo articolo 6 della direttiva qui il voto invece è basso perché il legislatore europeo e il legislatore italiano con una norma quasi fotocopia dicono che le biblioteche i musei gli archivi possono digitalizzare le opere permanentemente nelle loro collezioni e poi punto una volta che hanno digitalizzato abbiamo quelli che vengono chiamati dark archives che servono moltissimo per migrarli nel caso in cui vadano persi incendiati i formati cambiano e quindi se c'è una copia digitale possono essere portati avanti dal professore formiga può insegnarmi tantissime cose su questo però non basta perché una volta che io ho digitalizzato abbiamo un'altra previsione che dice che è possibile l'accesso attraverso terminali dedicati dell'istituzione era se non ricordo male la lettera N del paragrafo 3 dell'articolo 5 della direttiva Infosoc là è possibile accedere attraverso i video terminali ma non è possibile riprodurre qui è possibile riprodurre e non far accedere le due cose non si parlano per cui abbiamo queste copie che costano ma che non sono utilizzabili forse la soluzione va trovata nella giurisprudenza europea qui ho citato questo caso Eugen Ulmer che ci dice ma se noi abbiamo digitalizzato delle collezioni specifiche può considerarsi implicita nella lettera N la possibilità che l'ente che ha riprodotto metta a disposizione però deve essere specifico a Torino abbiamo da 20 anni un master di proprietà intellettuale abbiamo la più bella biblioteca di proprietà intellettuale d'Italia credo perché abbiamo avuto tante risorse non perché siamo più bravi noi potremmo dire visto che questa viene digitalizzata noi consentiamo l'accesso su terminali dedicati anche ai nostri studenti al BIT al nostro e questo dovrebbe essere consentito si può fare secondo me o perché si applica il caso Ulmer oppure perché si dà attuazione all'articolo 25 della direttiva che dice in sostanza si può mettere insieme una norma della direttiva nuova con quella di quella vecchia e allora io proporrei di combinare la vecchia norma sull'accesso dai terminali dedicati con questa sulla riproduzione magari ci arriviamo certamente c'è il tema della territorialità per cui non è possibile che quello che digitalizziamo noi diciamo ai 27 26 stati membri guardate che noi l'abbiamo a Torino volete che ve lo mettiamo a disposizione questo non si può fare e forse gli editori ci diranno che c'è ragione per cui non si possa fare vedo che il professor Attanasio simpatizza per gli editori e posso anche capirlo l'articolo 17 è quello più difficile ma poi andiamo a muovere verso le conclusioni c'è un po' esatto siamo fuori un video ho solo più l'articolo 17 e le conclusioni brava l'articolo 17 riguarda l'utilizzo di opere protette da parte dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online io me lo dimentico sempre si dice PSCCO vuol dire le grandi piattaforme digitali per intenderci allora diciamo due parole sulle piattaforme digitali per ricordare che hanno costi marginali zero ed esternalità di rete che vuole dire che sono destinate una volta che partono a conquistare tutto il mercato come è successo per Google come è successo per Facebook come è successo per YouTube sono giganti dell'informazione dice l'economist da molti anni secondo me ha più ragione Mark Lemley che quando dice in realtà sono dei monopsonisti dei dati perché siccome non chiedono dei soldi agli utilizzatori non è che abbia una quota di mercato se ce l'hanno su di uno dei sono piattaforme quindi sono operanti su due mercati e hanno delle quote sul secondo mercato quello pagante della pubblicità però la cosa fondamentale è che sono monopsonisti o oligopsonisti dell'informazione nel senso che tutti i dati che loro hanno sono quelli che consentono la profilazione di tutti e ciascuno di noi dentro questa stanza per cui si saprà che è inutile cercare di vendere una certa cosa al professor Attanasio mentre io sono molto sensibile perché i nostri dati sono a disposizione essendo questa la loro caratteristica le piattaforme le grandi piattaforme digitali hanno un impatto che voi conoscete enorme non soltanto sui mercati ma anche sulle istituzioni secondo me hanno un impatto negativo sulla innovazione sul processo politico quello che ci interessa però parlando di copyright è stata la prima invasione di campo nel campo della pubblicità delle notizie e della musica che ha messo veramente in un angolo i mainstream media quindi gli editori musicali normali i giornali e le radio e le televisioni ma non dimentichiamo mai che togliendo reddito a questi soggetti li ha tolto anche noi per questi soggetti pagavano le tasse cioè Sky piuttosto che i giornali quando hanno dei redditi pagano delle tasse su questi redditi quando questi danari vanno a finire nella controllata irlandese di questi soggetti noi non abbiamo neanche più tasse per cui abbiamo un'opera di erosione e di svuotamento quello che però dico scrivendo Senequen de Vue dove siamo? Siamo già Senequen de Vue sì questo è soltanto l'inizio perché noi lo vediamo nel campo della pubblicità della musica dei giornali ma arriva nell'assicurazione arriva nei mercati finanziari arriva nella medicina che diventa tutta non diagnostica ma predittiva quindi questi sono soggetti che operano e qui cambio la slide una grande erosione no forse non è andato troppo avanti la grande erosione dei diritti dov'è ah è stata messa insieme qualcuno ha unificato due slide parlo della grande erosione e ancora segnalo che le piattaforme hanno dei poteri di fatto perché voglio ricordare che se abbiamo un brevetto un marchio un copyright prima di che il titolare possa far cessare la utilizzazione del suo diritto ci va un intervento del giudice mentre invece le piattaforme hanno la tecnologia per cui impediscono di fatto hanno un potere di fatto di impedire l'accesso a quello che non vogliono che sia oggetto di accesso quindi si pone un grande tema di regolazione delle piattaforme io in passato ho guardato anche con simpatia alle piattaforme perché sono stati un fattore di innovazione in questo momento devo dire vedo Giuseppe e dice no hai sbagliato sì ho sbagliato adesso no in un primo momento sono stati un fattore da guardare con attenzione io ricordo quando negoziavamo a livello della commissione europea gli editori non volevano far entrare Google nelle nostre discussioni ma non è democratico non fare sedere Google al tavolo in cui si parla della digitalizzazione delle biblioteche e gli editori dicevano finché ci sono loro non vogliamo sederci tutto sommato avevano ragione gli editori o forse no non lo so questo non ho mai capito ho ancora dei dubbi Atanasio mi dirà poi la sua opinione dopo noi arriviamo all'articolo 17 che cerca di contrastare lo strapotere delle grandi piattaforme e lo cerca di contrastare con una norma piuttosto complessa che però vi faccio notare copre tre pagine mentre quelle successive si saltano i primi tre paragrafi ci dicono che cosa sono le grandi piattaforme ci dicono attenzione guardate che comunicano al pubblico che è un punto che si discuteva prima e non godono dei benefici della direttiva e-commerce che dava loro delle immunità i paragrafi 4 e 5 dicono che nel caso in cui le piattaforme usino delle opere protette devono svolgere dei best efforts dei massimi sforzi per fare tre cose negoziare degli accordi con gli aventi diritto eventualmente attraverso gli enti di gestione collettiva due se ci sono delle opere perché il problema delle piattaforme è che non sono loro che mettono su le cose sono gli utenti che le mettono su e quando risulti che ci siano delle opere protette e quindi in violazione dei diritti che sono state messe su devono di nuovo svolgere dei best efforts per impedire che queste siano sulla piattaforma stay down questa sarebbe la lettera B e la lettera C parla del take down il fatto che con una segnalazione di aventi diritto bisogna agire immediatamente qui come rilievi tecnici ne svolgo soltanto un paio per dire che questa storia dei massimi sforzi è stato un tormentone ma secondo me è una perdita di tempo perché tanto qualunque cosa abbia scritto il legislatore italiano fa fede a quello che è stata la direttiva perché poi decide corte giustizia io stesso sono stato persuasivo fatto adottare un'addizione che era basata sul testo della legge delega che poi non è stata seguita nel testo definitivo ma secondo me è una tempesta in un bicchiere d'acqua perché sarà il testo europeo che decide non quello che ha scritto Ricolpi piuttosto quello che ha scritto il Parlamento italiano e la cosa che invece vorrei dire molto forte è che c'è sempre l'alternativa tra disabilitare l'accesso o rimuovere il contenuto che è molto seria perché disabilitare l'accesso vuol dire che in quel particolare sono la pagina 16 disabilitare l'accesso vuol dire impedire l'accesso anche a dei contenuti che possono essere in parte legittimi e quello che regimi come la Turchia e la Russia hanno fatto nei confronti di certe pubblicazioni dicendo a queste non si può accedere invece noi dobbiamo bloccare la singola informazione rimuovere il contenuto è un'alternativa la scelta tra le due è una scelta delicata ma che deve essere conforme al principio della minimizzazione della restrittività perché se no andiamo contro la giurisprudenza non della Corte di Giustizia ma della Corte di Strasburgo European Court of Human Rights molto di questo viene fatto con gli upload filters con gli strumenti con le tecniche algoritmiche di riconoscimento di contenuti illegittimi e qui avevo cercato di introdurre un'edizione che non fosse così univoca che rendesse possibile anche altre alternative quello che devo ricordare è che gli upload filters operano nel momento del caricamento quindi prima ancora che gli aventi diritto abbiano potuto intervenire a chiedere di buttare giù e usando degli algoritmi è indispensabile che questi algoritmi corrispondano a delle caratteristiche di trasparenza che oggi non ci sono ma che dovranno essere raggiunte perché anche Saugmansgard nelle sue conclusioni ci dice che questa è una condizione indispensabile per la legittimità finisco finisco dicendo finisco dicendo che ci sono le limitazioni e le eccezioni per user generated content che critica satira e se gli utilizzatori vengono tagliati fuori ci sono dei meccanismi di reclamo che commento il principale meccanismo di reclamo che la principale osservazione che faccio è che dovremmo metterci in conformità a quello che è la norma futura il Digital Services Act sotto questo profilo siamo penosamente indietro non soltanto rispetto al DSA ma anche rispetto alla direttiva abbiamo fatto malissimo insomma poi gli atti li mettiamo a disposizione in sostanza quello chiudendo quasi una conclusione io credo che sia giusto affrontare il tema delle piattaforme credo che sia giusto cercare di proteggere i contenuti però ritengo che proprio come è fatto il diritto all'autore non si possano perdere di vista gli interessi degli utilizzatori e non si possa dimenticare gli interessi pubblici che si hanno alla conservazione della critica della parodia e degli spazi di libertà perché questo è il pane e il sale del diritto d'autore grazie scusatemi sono molto fuori grazie 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 grazie